Salve ragazzi! Prima di cominciare questo video voglio dirvi due cose. La prima, se state con una ragazza cosplayer e se tornate a casa da lei la sera e fa il cosplay di Catwoman e vi dice facciamo qualcosa di interessante stasera e di stimolante, non recitate troppo perché sicuramente mangerete croccantini. La seconda cosa è una cosa che quasi sicuramente avrete notato in questa settimana per chi mi segue, per i 15 iscritti che mi seguono, che io ringrazio infinitamente. Questo significa che 15 persone perdono, quando faccio uscire un nuovo video, dai 10 ai 20 minuti della loro vita, ed è una cosa di cui io tengo gran considerazione e vi ringrazio. Ehm, come avete visto non ho neanche il cappello in questa puntata. Calma boni, non ce l'ho per adesso, infatti come vi stavo dicendo prima ho caricato un nuovo video, e cioè dentro del mio canale. Ragazzi, trasformazione, sigla! Questo è un art attack. Questo è un art attack. Questo è art attack. Tra crappe e boiate, ore strane sono volate, grasso l'autobus mi insegue lungo il fiale. Nell'albero un pugno in faccia, verso cui dentro le braccia, scoppia il mondo fuori porta a San Vitale. E in via Petronio, e in via Petronio si svegliano. Già finito l'intro? Beh, allora, stai qui piccino? Allora ragazzi, come ho già detto, già nel trailer, in questo canale mi occupo principalmente di anime e di manga. Ho detto anche videogames, ma non sono così videoludicamente preparato, per parlarvi di un argomento del genere. Per quello vi consiglio di andare da Giorgio di Cappello di Paia, di cui proverò a lasciarvi il link in descrizione. Poi, probabilmente qualcuno penserà che io, ho detto tanto, parlo di anime e di manga, farò frequentemente video, e poi per tre settimane non è uscito praticamente nulla. Sì, è vero, non è uscito nulla, per il semplice motivo che io ho caricato la bellezza di tre o quattro video, ma o perché erano troppo lunghi, o per altri motivi tecnici non sono riuscito a caricarli, e di conseguenza neanche editarli e farveli vedere. In uno ho parlato di Mireniki, in un altro ho parlato di uno shoujo che ho cominciato adesso, molto bello, di cui vi parlerò un'altra volta. E allora ho pensato, va bene, provo a caricare l'ennesimo video trattando di un argomento di cui però non ho trattato ancora per niente in precedenza, una cosa di cui gli appassionati sicuramente conosceranno, e per i neofiti è un ottimo modo per fare esperienza. Oggi vi parlerò dei quattro tipi principali di ragazze che trovate sui anime. Cosa significa? Beh, come nella vita reale ogni ragazza ha il suo carattere, però ci sono quattro, diciamo, stereotipi che contraddistinguono alcuni personaggi femminili principali. Queste quattro categorie si distinguono, si possono raggruppare tutte nelle quattro tipi dei dere. Perché dere? Perché la desinenza dere-dere significa molto innamorato in giapponese. E infatti, e in base alla desinenza che c'è prima della parola dere, si capisce di che tipo di carattere è. Quindi Yan, Zun, Kun e Dan. In base a queste quattro desinenze, una persona può cambiare da così a così. E... Boh, senza ulteriori indugi, vi voglio presentare il primo tipo di stereotipo che si possono trovare negli anime. Le ragazze Zundere. Quindi, in questo caso, la prima queen che vi presento, cioè la regina di questa categoria, la queen of Zundere, è Isaka Taiga. Vittor Adora! Allora, come ho detto prima, parliamo di Taiga Isaka. Taiga nome, Isaka cognome. Ma più che parlare di lei, parliamo più della categoria di persone, le Zundere. E... Le ragazze Zundere sono delle ragazze particolari. In che senso? Sembrano molto scorbutiche, sempre arrabbiate. Se tu le fai un complimento, oppure... Oppure, anche se... Sia che la fai arrabbiare, sia che le fai un complimento, ti manda a cagare. Nel peggiore dei casi, ti manda all'ospedale. Non si allontana molto dalla realtà, però, a quanto pare... Però, quando sono con le migliori amiche o con il ragazzo che amano, diventano molto più dolci. Si vede proprio il loro lato tenero. E magari si scopre anche il perché sono diventate così. Magari genitori divorziati, il padre stronzo, passato difficile, un ex che gli ha rovinato la vita... E cose del genere. E... Non voglio parlarvi del... Non voglio bene parlarvi del... Di Taiga e Isaka. Più che altro non voglio parlarvi dell'anime di Toradora, perché quello mi sono ripromesso di recensirlo nel mio canale principale col mio miglior amico. Quando lo farò? Però, posso dirvi già due dritte, appunto, questa ragazza è una stracazzuta, conosciuta e temuta in tutta la sua scuola come la tigre palmare, nel senso che sta nel palmo di una mano, la mini tigre, meglio tradotto. E... È una ragazza carina, 17 anni, però... Cazzo, se la fai arrabbiare, tante botte. Qui è crollato qualcosa. E... Tanto di più su questa categoria non ho da dirvi. Però, nonostante all'inizio vi saranno molto antipatiche, fidatevi che sono le persone che poi alla fine sono praticamente le più dolci. Dopo aver parlato di questa categoria pediper, di ragazze, le zundere, passiamo direttamente alla prossima. Di qui... in questa mi dilungherò molto di più. È... una categoria abbastanza preoccupante, nel senso che vi farà forse un po' paura. Non vi allarmate, ovviamente. Però... Insomma... Adesso parliamo delle ragazze yandere. Di cui, ovviamente, per chi... Per chi sa di cosa sto parlando, sa già chi è la queen. Queen of Yandere. Yuno Gazai. Upload Kufie. Perfetto. Bene, ragazzi, adesso, come vi ho precedentemente annunciato, vi parlo delle ragazze yandere. Ma una cosa che prima non vi ho spiegato è che queste parole, zun, yan, dan e kun, hanno un significato, non sono messe a caso così. Infatti, zun significa scorbutica, suscettibile, acidiosa. Ed è attinente al personaggio che vi ho presentato prima. Yan, invece, significa... Mentalmente deviato. O mentalmente malato. Quindi, già vi fate da soli un'idea del tipo di persona di cui sto andando a parlare. Cosa hanno le ragazze yandere? Sono delle ragazze molto dolci, brave, carine, ovviamente, come quasi tutti i personaggi degli anime femminili del resto. Appunto, dolci, brave, solo che magari per via di un trauma che hanno ricevuto quando erano piccole, oppure per colpa magari di un ex che gli ha rovinato la vita, sono, ma anche molto più probabilmente per un trauma infantile, sono diventate... sono diventate malate mentalmente. E quindi sono possessive, estremamente gelose. Tanto che possono arrivare ad uccidere il ragazzo che amano, o anche la ragazza che si mette di mezzo come terzo incomodo. Scelte di vita. E... In particolare mi vorrei soffermare sulla quino viandere, che è Yuno Gazai, che viene dall'anime di Mirai Nikki. La storia di Mirai Nikki, non so se raccontarvela o meno, perché vi direi due cose in croce, e magari come recensione non ve la godreste per nulla, però è un anime che intendo appunto recensire nei prossimi video, e questo lo recensirò da me. Sappiate solo che appunto questa ragazza è appunto per via di qualche trauma è diventata psicopatica, non si fa problemi ad uccidere gli altri, ed è incredibilmente innamorata di un altro ragazzo che si chiama Yukiteru Amano, protagonista principale insieme a Yuno di Mirai Nikki. Cos'altro... Ah no, ah sì, forse non ve l'ho detto prima, ma le yandere sono delle stalker. Stalker proprio nel senso stretto del termine. Penso che ti pedinano, ti seguono, ti fissano. E tu ma molto probabilmente non te ne accorgi neanche. Mi drogo di smart un momento. Publicità accolta! Continuo a preferire le M&M, spero me le hanno regalate. Allora... Nient'altro. Se avete tempo guardatevi l'anime di Mirai Nikki, o tra quello di Toradora, perché è molto bello. E ben curato. Comunque davvero una bellissima storia. Ci saranno dei momenti in cui riderete a crepapalle. Sì, ho detto crepapalle. Espressione poco colloquiale che non ho inventato io e vi chiedo perdono. Vi farà piangere anche con i disperati. E ci saranno molti momenti in cui vi direte Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma che cazzo? Se posso citare Giorgio Cdp. Ma che cazzo sta succedendo? A me è successo un sacco di volte. Mi è successo anche in parecchi altri anime, ma in questo in modo particolare. Penso di essere arrivato a ripetere Ma che cazzo? Non sto capendo nulla in una sola puntata, almeno una cinquantina di volte. In venti minuti. E questo è buono sia per chi apprezza quello che può essere un po' horror sentimentale e anche per chi apprezza la fantascienza. Infatti ci sono un sacco di cose fantascientifiche molto fighe. Detto questo, passiamo alla prossima categoria. Le dandere. Le dandere sono completamente diverse da queste categorie che vi ho detto prima. L'unica cosa che hanno in comune è che sono un pochino stalker anche loro, però in maniera totalmente diversa dalle dandere. Quindi, senza ulteriori bandugi, vi presento le ragazze dandere. Queen of dandere, nella mia modesta opinione, anche se internet la pensa diversamente, ma io me ne sbatto. Queen of dandere... Come faccio a non ricordarmi il suo nome? Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Queen of dandere, Inatayuga. O magari no. Che. Che. Grazie a tutti.